In collegamento con TV2000 dalla Basilica Vaticana nella giornata mondiale di preghiera per la cura del creato abbiamo trasmesso la recita dei Vespri con Papa Francesco. E le nostre trasmissioni proseguono con una testimonianza sulla salvaguardia del creato a cura del Kufrad di Soma Riva del Bosco in provincia di Cuneo. Auguriamo a tutti buon ascolto. Cari amici che siete all'ascolto un cordiale saluto da parte di Mauro Rossetti e da Dario Bozzato. Questa sera la nostra trasmissione sarà più buona del solito, l'avete capito. Proveremo anche noi, ci sembra doveroso farlo, ad inserirci nella riflessione sul grande tema della custodia del creato, un tema che sentiamo particolarmente caro ovviamente perché vi trasmettiamo, lo sapete dal Kufrad che è un centro francescano dove Francesco e Chiara d'Assisi da sempre, fin dalle origini, sono state le guide, i fari, i pilastri che hanno orientato un po' tutto il cammino di questa comunità e quindi non possiamo non sentire come nostro questo tema. Anche se il tempo è poco, invitiamo anche questa sera a chi ci ascolta per intervenire a farlo attraverso gli sms al numero che già conoscete 331-791-4523 oppure attraverso l'e-mail all'indirizzo diretta-radiomater.org oppure ancora telefonando direttamente in diretta al numero di Radiomater 031-64-60-00. E' un tema che ci tocca da vicino, pensando la figura di Francesco essenzialmente come viene spontaneo fare quando si parla di creato, cioè colui che forse più di ogni altro ha espresso nella sua vita una completa armonia con le creature, quasi sviluppando un senso di fratellanza, tant'è che chiamava fratello, sorella, non solo gli esseri viventi ma anche gli elementi della natura, il fuoco, l'aria, le stelle, il sole e quindi Francesco è arrivato così possiamo dire a sviluppare questa sensibilità così delicata e intensa al tempo stesso che lo faceva sentire in stretta comunione con tutto il creato. Però viene da pensare che Francesco è arrivato a questo traguardo partendo anzitutto da se stesso, da quel profondo, sofferto cammino interiore di conversione che ha fatto attraverso le sue preghiere strazianti, i suoi pianti, fino ad arrivare alla comunione prima di tutto con Dio, che vuol dire poi anche ritrovare la comunione con se stessi, perché Dio abita nel cuore di noi e quindi quando ritroviamo noi stessi ritroviamo anche Dio. E poi il secondo passaggio è stato la prossimità, la vicinanza con gli altri, il farsi prossimo a tutti privilegiando essenzialmente i più poveri e gli ultimi, fino ad arrivare all'abbraccio quasi scandaloso con il lebroso. Partendo da queste considerazioni, mi viene da dire che un secondo motivo per cui sentiamo particolarmente caro il tema della custodia del creato è legato proprio al lavoro che noi facciamo qui al Cufrad come operatori, volontari, ognuno nel suo ruolo, di stare accanto, di accompagnare persone in difficoltà che si rivolgono a noi per essere aiutate a rialzarsi, a riprendere in mano la loro vita. Sono persone che spesso hanno alle spalle esperienze drammatiche, deprivazioni affettive, abusi subiti, maltrattamenti, traumi di ogni genere, che hanno lasciato in loro ferite profonde. Sono persone ferite dalla vita e che purtroppo hanno cercato nelle droghe, nell'alcol, nel gioco d'azzardo, in tante forme di dipendenza, oggi ce ne sono sempre di più, quasi un modo per sfuggire alle loro sofferenze, come se attraverso queste strade sbagliate potessero un po' ricostituire un equilibrio interiore, un'armonia che si era totalmente spezzata dentro di sé. E quando si spezza l'equilibrio con noi stessi, si spezza anche l'equilibrio con gli altri e l'equilibrio di noi nei confronti dell'ambiente in cui viviamo, quindi con il creato. Ecco allora che ci sembra che il nostro lavoro, che pone al centro, potremmo dire, la parte più preziosa del creato, cioè l'uomo vivente, fatto immagine e somiglianza di Dio, ci sembra che in qualche modo il nostro piccolo contribuisca un po' anche a far sì che si creino dei custodi del creato, perché quando una persona attraverso un cammino di crescita, un cammino anche terapeutico, fatto di tante difficoltà, di alti e bassi, arriva a risentire un'armonia con sé stesso, a ristabilire un equilibrio interiore, ecco che quindi riscopre la bellezza del prendersi cura della propria vita, anche del proprio corpo, perché la vita va intesa in tutte le sue dimensioni, anche quella corporea, ecco che allora viene quasi spontaneo per queste persone risentire un desiderio di rimettersi in armonia anche con gli altri, lo specifico della vita comunitaria, anche dei percorsi terapeutici è proprio quello di fare in modo che le persone a un certo punto anche prendendosi cura degli altri, gli uni degli altri si prendano cura di se stessi in definitiva e il passaggio finale è sentire il desiderio di ristabilire anche un'unità, una comunione con le creature, con tutto ciò che ci sta attorno, la prima cosa che nota una persona che viene al Kufrad è proprio la bellezza dell'ambiente, noi siamo veramente in un'oasi di tranquillità, di pace in mezzo al verde, la natura, gli animali, crediamo nell'importanza di presentare questo ambiente, proprio chi arriva devastato, sfasciato dalla vita, perché si sente incoraggiato anche dalle creature stesse che forse più di noi desiderano ritrovare a volte l'unità con noi a ricomporre i pezzi della loro vita che sono andati un po' in frantumi, noi stiamo accanto, cerchiamo di stare accanto a queste persone, chi ognuno ha il suo ruolo, chi come psicologo, chi con altre funzioni, quindi ci sono tante tecniche, tanti metodi, ne parliamo spesso nelle nostre trasmissioni dedicate al mondo del disagio, qui però vorrei soltanto sottolineare proprio l'importanza della vicinanza, del farsi prossimo agli altri, che è un po' quello che ci insegna Francesco, il valore terapeutico dello stare vicino, dell'ascolto, ecco io personalmente faccio quasi giornalmente un'esperienza che può sembrare banale, ma a volte mi sembra straordinaria, ascolto tante persone che telefonano con disagi a volte immensi, disperati, storie veramente molto difficili, l'ascolto a volte semplicemente senza poter dire quasi nulla perché è anche difficile trovare le parole giuste e spesso le parole servono poco, alla fine della telefonata mi ringraziano in un modo che mi sembra decisamente esagerato, come se avessero bisogno essenzialmente di quello, hanno sentito nell'ascolto semplicemente qualcuno che le prendeva in considerazione, quindi ridava in qualche modo dignità alla loro vita, anche se è così spezzata, così disperata. Ecco allora quanto è importante questa dimensione, sempre più anche le scienze psicologiche concordano nel fatto che le terapie psicologiche, le psicoterapie sono efficaci nella misura in cui si stabilisce una buona qualità di relazione nel rapporto fra il paziente e il terapeuta, una relazione empatica e in un'ottica di fede possiamo pensare che non può che essere così perché è proprio l'esempio che ci ha dato il Signore Gesù che per salvarci, per fare in modo che nessuno di noi lo possa sentire lontano, in qualsiasi situazione di vita si trovi, ha voluto farsi uno di noi, condividere ogni nostra esperienza, gioie, dolori, meraviglia, stupore, ma anche sofferenza, rifiuto, persino la tentazione, proprio perché ognuno di noi non potesse sentirlo lontano, in qualsiasi situazione si trovi. Ecco, noi a livello umano quel poco che cerchiamo di fare è un po' simile a questo, cioè stare accanto per ridare valore e dignità alla persona prima di tutto, in modo tale che di lì la persona dia un senso, un significato alle proprie esperienze, perché spesso la cosa più difficile accettare è proprio questa, non riuscire a dare un senso a ciò che è accaduto di negativo nella nostra vita, ciò che ci ha ferito e poi di lì parte un cammino per piccoli passi che può portare anche a grandi risultati. Un saluto a tutti, anche da parte mia, ho ascoltato con attenzione quello che ha detto il mio collega e ancora prima ho ascoltato le riflessioni che ci sono state proposte nella trasmissione che ci ha preceduto. Una delle cose sicuramente più importanti, mi è venuto sulla quale riflettere, è proprio il fatto che esista un quadro di indifferenza generale purtroppo nel nostro mondo. Oramai siamo talmente abituati a pensare soltanto a noi stessi, o meno principalmente a noi stessi, al nostro piccolo orticello si potrebbe dire, quindi soltanto magari alle persone che sono solo vicine a noi, che risultiamo essere molto indifferenti nei confronti di tutto quello che avviene un po' più lontano dal nostro orticello. E questo è un aspetto che è sicuramente basilare per chi come noi cerca di fare una professione d'aiuto, quindi di vicinanza alle persone che soffrono, cercare di guarire un po' da questo male che è l'indifferenza. Notiamo spesso come le persone che si rivolgono a noi portino sempre prima il loro disagio rispetto a tutto quello che li circonda. E come avevamo prima è importante aiutare queste persone a costruire una relazione armonica con tutto quello che esiste attorno. Il creato direbbe appunto una persona con fede. È un aspetto molto importante questo ed è anche molto difficoltoso, me ne rendo conto. La professione d'aiuto passa sicuramente attraverso l'esercizio di pratiche che aiutino una persona in difficoltà a ristabilire un senso di pace e armonia con tutto quello che succede attorno. Essere un po' custodi appunto come ascoltavamo prima di tutto il creato, essere vicini alla terra, vicini al mondo degli animali e anche e soprattutto vicini alle altre persone. Chi soffre di una patologia d'abuso, vediamo all'interno dei luoghi di cura del Kufrad, spesse volte è una persona che ha perso questa armonia, che non riesce quasi più a occuparsi né di sé né della propria quotidianità né di quello che lo circonda. Ha perso gli stimoli, ha perso il desiderio di fare del bene, questo è un aspetto importante. Vediamo che la guarigione passa sicuramente anche nel riuscire talvolta a mettere da parte i propri problemi per farsi carico dei problemi degli altri. In comunità, quindi nel cammino terapeutico comunitario, l'ottica appunto dell'auto mutuo aiuto, quindi far sì che i propri pesi vengano portati anche dagli altri, ma fare anche sì che i pesi degli altri siano un po' i nostri, è una parte sicuramente vincente della terapia. Riesco in qualche modo a rendermi utile per l'altro, riesco in qualche modo a accogliere quelle che sono le sofferenze degli altri, mi confronto con le sofferenze degli altri, in un certo senso sposto anche un po' termine molto caro alla psicologia, quelle che sono le mie difficoltà, le mie fragilità, le mie basilare. Un buon terapeuta sicuramente deve aiutare il proprio paziente a intraprendere questo cammino. Diceva bene il mio collega Mauro prima, talvolta anche solo con l'ascolto, riuscire a creare uno spazio in cui una persona ferita, una persona fragile si senta libera di esprimersi, si senta la libertà di esprimere le proprie paure e le proprie difficoltà e in questo spazio, in questo momento privilegiato in cui una persona può rimuovere tutte le sue difese, rimuovere la propria corazza, probabilmente in questo proprio spazio è la vera essenza del cambiamento della guarigione terapeutica. L'ottica che si cerca sempre di di proporre un'ottica fatta di situazioni e di cose semplici, per chi ascolta generalmente le nostre trasmissioni sa che il frenetico mondo nel quale viviamo oggi ci porta a essere sempre progressivamente più lontani da quella che è la nostra realtà interiore, siamo sempre proiettati all'esterno verso le banalità, verso gli aspetti più futili della vita, verso l'apparire, tutti aspetti che ci portano sempre più lontano da quella che è la nostra realtà interiore e chiaramente se non abbiamo un buon rapporto, un rapporto di qualità con la nostra realtà interiore è chiaro che non possiamo essere in armonia principalmente con noi stessi, ma neanche con l'ambiente che ci circonda. Da qui appunto vediamo gli scempi che quotidianamente compiamo nei confronti della natura, nel confronto del mondo dei fratelli animali, come direbbe Francesco. Vediamo che non c'è questa capacità di rendersi e di farsi prossimi a tutto il mondo esterno. Chiaramente dicevamo il tentativo di ritrovare l'armonia di una persona che questa armonia l'ha persa e magari si è allontanato dal proprio io originario, dicevamo prima con le sostanze, con l'alcol, con le dipendenze che impazzano al giorno d'oggi, il tentativo di rientrare appunto in contatto con la propria armonia interiore è un tentativo che va fatto in comunione con altre persone, questo è quello che noi cerchiamo di proporre all'interno del percorso del Kufrad. Mi incammino verso la mia guarigione individuale, ma mentre cammino lo faccio insieme ai miei fratelli, lo faccio insieme alle persone che stanno soffrendo come me. Probabilmente questa idea di auto mutuo aiuto alleggerisce le sofferenze della mia vita, potermi confrontare con una persona che ha avuto delle difficoltà simili alle mie, che ha avuto ad esempio dei lutti familiari simili ai miei, che ha avuto delle situazioni di disagio simili ai miei, poterla sentire vicino a me, poter sentire che questa persona comprende quello che io sto patendo in quel momento, quindi si fa un po' partecipe della mia sofferenza, è sicuramente un passo principale per la terapia comunitaria. Ed è chiaro che nella professione d'aiuto che noi coppiamo quotidianamente dobbiamo sempre cercare di aiutare i nostri ospiti ad affrontare con serenità, e questo forse è un termine importante, le proprie difficoltà, e cercare di guarire un po' la propria indifferenza. L'indifferenza la supero se vedo negli altri quello che potrei essere io. Probabilmente la trasmissione di oggi, nella sua brevità, avrà lasciato, speriamo, qualcosa ai nostri ascoltatori, avrà, spero, fatto comprendere quanto il tentativo di aiutare gli altri, appunto come psicologi, come operatori, come volontari, sia un'attività che va comunque sempre fatta con tutte le risorse individuali possibili. Non è possibile aiutare un'altra persona se non sono convinto di poterla aiutare e quindi probabilmente la speranza di poter arrivare alla sofferenza di un altro uomo è anche la segreta speranza di poterla aiutare a cambiare. Lascio allora la parola al mio collega per un saluto finale e vi ringrazio per la vostra attenzione. Un caro saluto a tutti. Bene, grazie al Dottor Bozzato per il suo intervento. Siamo davvero in chiusura. Mi viene solo da dire che la sintesi può essere un po' il fatto che possiamo diventare custodi del creato solo se ci ricordiamo sempre questi tre passaggi. Il passaggio fondamentale è ritrovare sempre la comunione e l'unione con Dio, con i fratelli e quindi con il creato. Grazie a tutti gli ascoltatori, al Dottor Bozzato come detto, grazie anche ai presenti qui in studio che non sono intervenuti ma in qualche modo ci hanno supportato con la loro presenza. Vi invitiamo a rimanere all'ascolto di Radio Mater e vi diamo appuntamento come sempre alla prossima nostra trasmissione sui temi del disagio che sarà giovedì 15 settembre alle 17.30. Resettiamo la linea alla regia di Erba. Un caro saluto a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Nella giornata mondiale di preghiera per la cura del creato abbiamo trasmesso una testimonianza a cura del Kufrad di Somma Riva del Bosco in provincia di Cuneo. Come già ricordato la trasmissione Testimoni del Cielo andrà in onda giovedì 15 settembre sempre alle ore 17.35. Radio Mater La radio che porta la chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia. Toscana Oggi, il settimanale alla radio. Un cordiale saluto da Andrea Fagioli e da Riccardo Biggi. Ben ritrovati dopo la pausa di agosto a questo appuntamento con Toscana Oggi, il settimanale delle diocesi toscane. In apertura, in questo primo numero di settembre, il terremoto che ha colpito l'Italia centrale. Ovviamente ce ne occupiamo per motivi di solidarietà, ma ce ne occupiamo anche per fare il punto di quello che potrebbe succedere in un caso del genere anche in Toscana. Tanto che il titolo di apertura della prima pagina è appunto quello Il rischio in Toscana. Poi all'interno ci sono numerosi approfondimenti di vario tipo, però segnaliamo sempre dalla prima pagina l'editoriale dello storico Franco Cardini. Su questa vicenda, se vogliamo, assurda come definiamo nell'editoriale, nel titolo dell'editoriale, l'assurdo caso del Burkini, aria fritta di mezza estate. Ci riferiamo ovviamente a quello che è successo in particolare in Francia, dove appunto il Burkini, la copertura, il velo delle donne islamiche è stato vietato sulle spiagge. Poi c'è stato un ritorno indietro. Insomma, Cardini affronta il problema e lo affronta da par suo. Segnaliamo anche il ricordo di Ettore Bernabèi, toscano.